scusami ma dove sono finiti tutti questa non è una storia vero sono andati tutti via ruggine questo capitolo è finito oh e noi due perché siamo qui noi siamo qui per dire addio a questa mappa vieni con me ah ho capito vuoi salutare questa mappa come fatto con la prima esatto ma vedi per la prima volta l'ho fatto io questa volta tocca a te io nessun altro merita più di te l'ultima parola su quest'isola tocca a te finire per me sarà un onore allora come inizio ciao cara isola questa è l'ultima volta che ci vediamo ci hai regalato davvero delle grandi e belle avventure addio grotta essere sgamati da brutus con la minigun non è mai stato così divertente fino a quando non si è affogata moli molesti ah mi mancheranno i tuoi bei cari container tu non sei mai cambiato foschi ma sei sempre stato speciale avrei voluto vedere più eventi su di cari case abbandonate beh voi siete state la mia prima vittoria reale del capitolo 2 frutteto io ti adoro sarei anche un luogo piccolo ma cavolo tu sei uno dei pochi luoghi che mi mancheranno insieme al ristorante di pomodoro scogliere tu non eri male ma non sei mai cambiato ti ricorderò sempre con quella buffa statua di pesce secco ciao isoletta 1 ciao isoletta 2 parco pacifico io non ti voglio mai più vedere ma tanto so che ci vediamo nel capitolo 3 tu non vai mai via parco pacifico e poi non sei mai pacifico fortezza spero di vedere nuovi luoghi simili a te ma ancora più grandi ti ho adorato nella stagione dei cacciatori il faro beh a cosa sei servito lo yacht quando è arrivato era da tutt'altra parte squalo tu sei leggendario ricordo ancora quando tutti atterravano da te per ottenere lo scaracca di sky castello corallo io ti odio cala credente tu sei il fratello scemo di palmetto paradisiaco loro due che bei amiconi e il castello distrutto luogo carino questa casa beh non risolverà mai il suo problema il caro negozio avrei tanto voluto vederti con le decorazioni natalizie e non solo con quelle di halloween siepi tu sei ok sei stata una bella e piccola città che brutta fine che hanno fatto fare al tuo ristorante manzo spero di rivederti pantano il mio primo luogo di atterraggio eri uno dei luoghi più utili della mappa e poi ce la diga quanti tuffe che ho fatto lì e anche tante morti oh foresta tu sì che mi mancherai tanto tu sei il mio luogo preferito di questo capitolo adoro il tuo design così naturale e genuino brughiere era meglio borgo allegro gatto grill spero di rivederti nella nuova mappa sarai sempre un piccolo logo speciale per me lago lago tu sei una falsa pinnacoli pendenti avrai anche un bel design ma sarai comunque al di sotto di pinnacoli mi aspettavo grandi cambiamenti su di te corso commercio tu sei la nostalgia io sono affezionato a te ma nella nuova mappa preferirei vedere una nuova città che dire cara mappa capitolo 2 ci sono stati momenti belli e brutti grazie per le bellissime esperienze che ci hai regalato e voglio che anche voi scriviate qua sotto nei commenti qual è il vostro luogo preferito in assoluto del capitolo 2 è stato bello salutare questa mappa e ora prima di andare via un ultimo tacos insieme sì perché no accetto spero solo che dopo aver mangiato io non debba correre in bagno sai ogni volta che mi scappa finisce sempre male e io non voglio che finisca sempre male l'altro giorno mi